Le sette e mezzo, questi sono tutti i paletti messi dal professor Scattolin per la scritta che è lunga più di cento metri. Se ci fosse la possibilità di registrarla come Guinness sarebbe la più grande d'Italia, ma non c'è stato possibile. Stanno confluendo sulla piazza, quindi vi prego di accelerare l'afflusso sul prato e di prendere posto alle lettere che vi sono state assegnate. Stanno cominciando a confluire da tutte le parti gli studenti che arrivano dalle 56 scuole di Pisa. Sono la bellezza di oltre 2000 ragazzi, ma io stimo che siano anche di più oggi. E stanno arrivando da tutte le strade che convergono su Piazza dei Miracoli. Queste sono le magliette, pronte all'uso. E qui per terra ci sono tutte le tracce delle scritte che verranno poi riempite dai ragazzi al momento dell'arrivo delle dico. Ricordiamo che una volta che avesse portato il scopo di un intervento di un intervento meno visibile possibile che la foto aerea che verrà fatta in questa occasione. È un'occasione bellissima, occasione in cui questa foto... ringraziamento alla Cruce Rossa italiana che ha curato l'organizzazione tecnica, alla Banca di Credito Cooperativo di Cassina, alla Co. Commercio, alla Co. Fesecenti per le sponsorizzazioni concesse. Grazie. 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 Buone vacanze. Mi senti... Tolgono il volume quando stavo per dire di non farvi dare troppi compiti per le vacanze. Grazie. Oh, ditele professori, ve l'ha detto il ministro, ragazzi. Pochi compiti, ma buoni. Grazie.